Cari Angello, teme recente, qua da Sala da Sala da Sala da Sala da Sala, oggi vi faccio vedere anche l'Italian Grammar dei avverbi. Sì, oggi vi faccio vedere che l'avverbio è una parte del discorso che non cambia ma che modifica il significato della parola a cui è riferito. E' una parte del discorso che non cambia ma che non cambia ma che modifica il significato della parola a cui è riferito. E' una parte del discorso che non cambia ma che non cambia ma che modifica il significato della parola a cui è riferito. non è vero di tempo significa, e senzio, che ci sono 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 dui e che ci sono chiama settimana, cosa è che hai, il tuo sotto il sotto? il chitato le sei, il tuo sotto le tre, il fatto il stesso tempo L'intena significa che questo giorno, il giorno è un giorno così ozzisci, il giorno è un giorno, è un giorno così il giorno è una volta, prima è un giorno così Si ho tearingo una cosa di orecco, orecco di prima di quanto non è il primo in prima cosa. Pi a poi fare una cosa di prima che nel primo con le facci e la facci. Par caso, come sto qui facciando un altro esempio. In questo video, si è già chiaro, avanti a poi, allora dovremmo sapere? Dere. Dere prima, e per la? Dere, che dovremmo sapere? Orse ovviamente? O che è dovuto meno pensare? la pasta alla carbonara cioè che i ditò che ora io ho faccio obietto cioè oggi 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 tutti importante allora domani rispondo alla tua email cioè io oggi rispondo alla tua email ma tu le la di questa domani quindi ti rispondo alla tua mail quindi quello che mi rispondo alla tua quindi così dire che non mi rispondo alla tua più oggi finalmente mangio prima 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 3 prima 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 I can't wait to listen to you after that se, l'unico, il depo da te voi I can't wait to listen to you later I be ready to listen every day ogni giorno ogni giorno ogni giorno presto ogni giorno ogni giorno è tardi ogni giorno è tardi sono già quando i parenti hanno detto che sono già quindi sono già 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 ora ci vediamo che avarmi tempo è una frequenza sempre normalmente spesso non 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 ora possiamo vedere il video, cercare di tutto la categoria e la parte del video a tutti i nostri video ti sono molto felice, grazie per la visione